Quando vedete che si avvicinano le nuvole dall'Oriente, voi dite che arriva la pioggia, e avete ragione. Quando il vento umido soffia, sapete che sarà caldo, ed è così. Voi tutti sapete riconoscere bene i segni della Terra e del Cielo. E dunque per chi non volete leggere i segni dei tempi? Il Regno dei Cieli è qui. Ora.